Siamo a caricare il cartello, il cartello di Ionia e il quarto posto, con il tempo di 1.14.43, troviamo Marco Matteo, al quarto posto con il numero 46, con il tempo di 1.14 e 7.1 Roma Giorgio. Terzo posto per Donato Argentieri, il numero 1, con il tempo di 1.10.01 Secondo posto per Vinci Michele, con il numero 7, con il tempo totale di 1.05.36 Primo posto per il numero 18, Rampoio Lozano, con il tempo totale di 1.04.91 Rampoio Lozano, con il tempo totale di 1.10.01